E' l'ultimo passaggio stagionale, amici di Unibet. L'ultima scommessa. Eccola qua. La finale di Team Cup di Coppa Italia di quest'anno contro il Meda. Io non so cosa ha detto Rui, però lo temo molto. Perché Rui l'ho visto dimesso. L'ho visto negativo. Non vorrei mai, tra l'altro col Papa che li ha benedetti, che gli porti bene. Però ragazzi, se perdiamo con questo Milan, gli faccio ricrescere i capelli. Non so come, ma mi ricrescono i capelli dal nervosismo, penso. Quindi, cosa vi devo consigliare di scommettere? Ma scommettete sulla Juve. E scommettete anche sull'over. Guardate, non vorrei dire, ma minimo. Minimo. Dai, e secondo me, se volete anche i marcatori, Mazzucchini, Di Bala, è ancora Di Bala. Doppietta. Minimo. Minimo, eh. Ciao amici di Unibet. Alla prossima stagione.